Foot to foot, crunch. Distesi al suolo con le spalle e la testa sollevate, in modo da mantenere l'addome in costante tensione. Solleva ancora un po' col busto, e contemporaneamente piegalo su di un lato, fino a che la mano non arrivi a poter toccare il piede. Ritorna in posizione di partenza ed esegui lo stesso movimento per l'altro lato.